buongiorno questo video è il primo di una serie di video che preparano presentano questo insieme di attività che riguardano appunto la preparazione dell'ambiente di sviluppo per l'utilizzo di questo corso e questo video coprirà l'installazione di uno js e sarà seguito da altri due video di utilizzo e verifica dell'installazione nonché sull'installazione la configurazione di webstorm e anche di viso studio code che un editor di testo che utilizzeremo durante il corso queste serie di video seguono ed espandono in un certo senso questo set di slide che è già linkato in questo guida pdf all'interno della pagina del corso su dir come dicevo in questo primo video tratterò l'installazione di uno js parlandovi di come installarlo su windows su mac e mostrandovi anche come è possibile installarlo su linux in maniera un pochino più espansa rispetto a quello che è riportato in queste slide e quindi pertanto io non seguirò passo passo queste slide durante il video ma ovviamente queste servono come un riferimento minimo ed essenziale per comunque arrivare alla fine delle di queste procedure di installazione e di configurazione quindi prima di tutto la prima cosa che ci serve appunto da installare e node.js node.js o node anche si può scaricare e installare partendo dal suo sito che è node.js.org visitando il sito di node.js.org e vedete due bottoni più o meno in centro alla pagina sotto la parola download per e il vostro sistema operativo e da con cui state visitando questa pagina io sto visitando questo sito da un sistema operativo mac os e quindi mi vengono proposti i due download per mac se lo state visitando ovviamente da windows o da un sistema operativo linux i download saranno opportunatamente adatti al sistema operativo con cui appunto state visitando la pagina allora node è un runtime di javascript che è costruito sul javascript engine di chrome che appunto permette di utilizzare javascript come linguaggio di programmazione per creare applicazioni di vario tipo non necessariamente legate al web quindi ci fornisce un interprete per il linguaggio javascript da utilizzare sul nostro computer durante il corso noi per il corso ne useremo tra queste due versioni ne useremo la versione lts quella long term support che in questo momento è la 12.16.1 io come dicevo vi mostrerò quindi installate pure questa versione io come vi dicevo vi mostrerò come installarla su win su mac ma l'installazione su windows è praticamente identica vi dirò poi due parole su come installarla invece per linux quindi procediamo con la procedura di installazione per prima cosa bisogna scaricare questo questo file vedete che chrome lo scarica lo scarica e lo posizione in questo caso nella cartella download io per semplicità per motivi diciamo di video registrazione adesso sposto questo pacchetto sul desktop dove in realtà avevo già una versione precedente e lo sovascrivo quindi questo è il file che avete appena scaricato dal sito di node.js facendo doppio clic sopra mac in questo caso vi dice che non può aprire il file perché non è firmato correttamente secondo lui ma per ovviare a questo problema vi basta premere col tasto destro scegliere apri con installer che comunque è il software che lo aprirebbe di default e nella nuova finestra che appare ci sarà un bottone apri appunto per poter aprire e iniziare la procedura di installazione sotto windows questo non capita di potrà invece chiedere i permessi di amministratore per poter installare il software sul computer il file di installazione di node.js comprende due separate due parti separate una è node vero e proprio questa prima ringa node.js versione 12 16.1 che appunto l'interprete javascript il secondo è npm npm sta per node package manager ed è appunto un gestore di pacchetti per node poi potete immaginare i pacchetti come librerie come estensioni come utility per estendere le capacità del vostro codice javascript o per aggiungere nuove funzionalità a alcuni programmi che ovviamente scriverete l'installazione di nuovo su mac su windows e a questo punto molto molto semplice si tratta di continuare premendo sempre avanti fino appunto ad arrivare al punto in cui viene installato e c'è ovviamente la possibilità di personalizzare l'installazione e quindi rimuovere per esempio node o npm dall'installazione ripeto nel nostro caso noi abbiamo bisogno di entrambi quindi alla fine dell'installazione e voi dovrete avere sul vostro computer node versione 12.6 16.1 npm versione 6.13.4 se lo installate in questo momento se lo installate in un momento successivo a questo video per cui le versioni di node non è più la 12.16.1 ma è una versione successiva va bene uguale l'importante che sia una versione lts e non l'altra versione nel mio caso sia node che npm sono già installati quindi io esco in questo momento dalla procedura di installazione ma proseguendo con l'installazione semplicemente vengono installati due software e sono resi a disposizione del sistema operativo sia su windows che su mac e una semplice procedura di installazione grafica del tipo avanti 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 fine quindi io interrompo la procedura e in questo momento cancello questo per verificare che node sia installato e per esempio è sufficiente aprire un terminale o un prompt dei comandi se siete sotto windows lo apro solo un po più grosso e digitare per esempio node meno v se node è stato installato correttamente a questo punto noi dovremmo vedere che node che la versione di node installate da 12.16.1 come ci aspettiamo allo stesso modo per verificare che npm si sia installato basta digitare npm meno b e anche in questo caso vediamo che la versione di npm e la 6 13.4 e questo è una verifica che l'installazione sia andata in un certo senso a buon fine questo è appunto l'installazione su mac questa è l'installazione classica anche molto simile quantomeno all'installazione classica su windows e microsoft sul suo sito sul sito degli sviluppatori e quindi andando nella parte relativa a node o al web in questo caso vi fornisce la stessa procedura vedete che invece di c'è comunque un pacchetto che si può scaricare da node e installarlo con avanti 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 esattamente ma vi da questo suggerimento ulteriore vi dice che usare node su windows va benissimo per imparare e sperimentare con quello che si può fare ma la maggior parte delle applicazioni web in produzione quindi su internet disponibili funzionanti pubbliche diciamo così sono tipicamente rilasciati su un server linux based e quindi microsoft stessa raccomanda di utilizzare il windows subsystem for linux versione 2 per realizzare le applicazioni node web in questo modo loro dicono è più facile e più consistente avere l'ambiente di sviluppo che quindi state con cui sviluppate con l'ambiente di produzione con cui le applicazioni sono in realtà rilasciate al fine del corso va benissimo se voi lo installate su windows ma se avete la possibilità qui su questo stesso sito che è linkato nelle slide del corso ma che è docs.microsoft.com slash n-us windows node.js setup-on-wsl2 ci sono le istruzioni per abilitare il windows subsystem linux e installare una distribuzione linux appropriata e installare node.js e poi utilizzare node.js all'interno da windows utilizzando node.js installato in wsl quindi questa è un'alternativa che volevo solo evidenziare ma ripeto l'installazione su windows normale ai fini del corso in quanto noi non dovremo poi fare il deploy effettivo pubblico di quello che realizzeremo va bene allo stesso modo infine due parole sull'installazione per linux l'installazione per linux se voi andate nella pagina download trovate l'installer per windows l'installer per mac e poi il source code per linux in realtà se voi navigate in questo sito andate su installing node.js via package manager e selezionate una delle distribuzioni linux che avete a disposizione per esempio citiamo il caso di ubuntu, di debian, mint e tutta quella famiglia oppure fedora e tutta la famiglia rpm il sito vi consiglia di navigare fino a questo sito a questa pagina a questo ritmi e per esempio per installare node.js e npm sotto debian quindi una di queste qualunque versione di ubuntu o debian o mint o altre versioni che comunque altri sistemi operativi derivati da debian vi da comunque l'installazione la procedura di installazione che è da terminale fare CHURL a questo indirizzo e quindi scaricare questo file di installazione e poi installare nel JS questa procedura da terminale di due righe è equivalente all'installazione da interfaccia grafica che abbiamo ben fatto e come risultato finale ottenete comunque l'installazione di node.js e di node.js e di npm quindi queste sono le istruzioni poi per installarlo sotto linux sia se avete un sistema basato su debian sia se avete un sistema basato su rpm per cui come vedete le istruzioni è praticamente molto molto simile CHURL di questa stessa cosa e poi ovviamente l'installazione seguente ma di nuovo l'importante anche in questo caso è che voi installiate node.js versione 12.x in questo caso sarà la 12.16.1 perché è la versione di supporto a lungo termine nel prossimo video vi mostrerò un utilizzo un pochino meno semplice di node.js e di npm